ci siamo, ci siamo, ci siamo riusciti a mettere la trance l'angolo trance di classe 90 evolution per la gioia di Carlo 5 minuti di goduria assoluta trance music, questo chi erano? Marco Schulz, Alina Eremia, il remix di Richard Durand Tu illumini la notte, the light up, semmo scioglilingua You light it up the night intanto voglio salutare anche Anna che ci ha scritto un sms ci sta ascoltando e dice questa serata oggiosa in questa serata oggiosa è l'ascolto di classe 90 è a casa e si sta divertendo si sta divertendo, ci fa piacere perché qui abbiamo da una settimana questa nuova versione, la seconda puntata di classe 90 evolution ascoltiamo un po' tutti i generi dance del momento dance, tech house, house, edm, house garage, trip house no, trip house poco eh e poi abbiamo anche la trance abbiamo questo angolo dedicato alla musica un po' nord europea esatto, vai vogliamo rimanere sul tuo genere Carlo? eh sì dai facciamo questo angolino, ce lo riserviamo abbiamo già in sottofondo il secondo disco trance K40, K4050, e Plum, I love you I love you non c'è la 50 secondi, KF alla tua? era già partito da un bel tuo 50? 50? eh no, perché stavo già cantando un sacco di te ma si accorto no ma c'è stato pure prima io ho messo Kala 35 e invece ho partito 10 secondi dopo è solo aglio è piccolo, un'è che dovrebbe appureron, appureron.